Hola ragazzi, benvenuto del vostro solo in questo nuovo video di Darksiders 3 Allora, questa volta il nostro obiettivo probabilmente sarà quello di ammazzare il mostro tentacolare e che mi farebbe molto piacere ammazzare subito perchè non mi piacciono i tentacoli, non siamo mica noventai O intanto, non piamo questi cosi e ci facciamo altre anime Così saliamo un po' il più livello Comunque qua vedo che cominciano a fare un po' fatica di FPS Così poco? Oltre in demilani ma soltanto due livelli? Cazzo Vita e forza La vita ce n'è tanto bisogno ragazzi, tanto, tanto, tanto bisogno Ok, dai Ah ok No, 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 no Quindi, no, quindi è gola quello Ah Ah Uh, che bestia, che bestia Tentacoli Io ho paura Io non voglio buttarmi qua ragazzi Non mi ci voglio buttare L'ho fatto L'ho fatto Quelle sono mine Quello è un oggetto Quella mia mi verrà addosso E certo mi verrà addosso Che fai? Non mi verrà addosso la mina E io If you want to say Oh Ah 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 Ho preso Io ti prendo Ah 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 Salta E si gola il ca Ah La poe è il ca Ah Che cosa sto dicendo Cori 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 Vai a fare in culo Gioco di merda Fan culo Tu mamma Non mi ha visto 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 Sì 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 Però se corro Non mi fanno niente Ok Parte la musica Quindi Sono andando bene Dai Sono andando bene Orchè puttana Cos'è quel viola Eh vabbè Però stavolta l'ho messo Lo schio Eh Eh vabbè Eh vabbè Ci stiamo come vogliamo ammazzarci Eh Ok Cioè dovevo fare così ogni volta Vedi Cioè è un po' triste qualcosa eh Eh vabbè No ci muori Ci muori La smetto No esattamente Sì Devo andare per di qua Quindi Aspettate Oddio Un altro di quei ragni giganti A che fai Non lo affronti Oh quanta somiglianza Sei disgustoso Quanto tu sei Di qua Dai Dai Prendi Esquifo! Dai! Le vado a mozzare pure qua! Ok! Gli insettini mi danno un passio tremendo! C'era proprio bisogno che li metterate qua dentro sviluppatori! Non c'era bisogno! Tocca liberare le monorotaie! Ora non ho preso l'oggetto, sono stronzo! Abbastanza! Sfera del vigore! Cristo e Dio! Ora posso avere un altro frammento nei film, no? Mi sa che prendo 75 di vita in più! Devo andare là! Probabilmente devo spostare questo! Una botta a questo? Una botta a questo? Sì! Come cosa? Il segreto è nel polso! Credimi! Aha! Mi fido di te, Furrier! Perché dovrei dubita... Aspetta! Ottimo! Eh! Se la vede! Non so dove mi sta portando eh! Ok! Quindi? Devo fare così! Già che non devo rifare un'altra volta Questa strada E un ottimo Va bene Attenzione Arriva l'ombran E guarda Madonna Quanto forte però Non era complicato sto enigma Cominci ad andare da questa parte E se io faccio il ribelle Faccio il ribelle Mi avuto di qua C'è nessun oggetto no Infatti Pezzo di adamantite Buoni pezzi Sì sono buoni 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 Porca puttana Eh no No è però Che coglioni Potenziato l'arma zio Potenziato l'arma Ok No No Rimaneteci là dentro E vabbè però E vabbè però Mo tocca a te Torna qua Che ti devo ammazzare per bene In qua In qua Ti ho evitato l'attivo Torna qui Ok Un oggetto qua sopra Ma come si arriva lassù Così giustamente Ho il potere del fuoco Lo facciamo Porca puttana Tutto tranne questo Tutto tranne questo E' abbastanza inutile Però Sei inutile Quante rompi coglioni In effetti Gli ho fatto un complimento Quindi Orsi puttana Ovvio ai danni arcani Ok vabbè Inutile non gli faccio danno E' durissimo Vai sopra va Oh cazzini Vabbè Avulgrim Vedo dicendogli in alto a destra Mamma mia Come mi piace così furia E mo gli vedo i peli del naso Però così dai Ma Mi prendi per il culo? Ah Perfettamente finta Era un test Ma tutti quanti Possono fare allucinazioni? Che schifo Ma faceva schifo Lussuri era molto più bravo Madonna che schifo Forse Tu riesco a guardarti E lasciarti Osservare Le tue stesse Interiore Nooo Faremo almeno di questa cosa Vuoi un cosciotto di pollo? Mi sa che un cosciotto non ti basta La creda facile La più facile di tutte Ma non sono ancora pieno Sai che ci ho provato Che ci ho provato Vabbè è ritardato Che dobbiamo fare Oh mio dio Oh mio dio Eh no Mo tu ci muori frate Ahia Ah ok Mi spara Le schifo Però come faccio A batterlo questa Porca troia Ora No vabbè No vabbè Questo è acido Un gioco a sta sopra Come lo faccio L'ammazzare Cioè Non è che so Come poterlo ammazzare Porca puttana Questa ha fatto male Vuoi di provare a fare una cosa? No No Perché non mi vado a trasformare LBRT Non mi Ah aspetta 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 Ho capito Dai 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 Sì però Oddio Questo devo farlo senza telecamera Praticamente Niente Niente Non so come evitare i suoi attacchi Mettermi agli angoli Che palle Deve morire Ok Ok E' a metà Quindi adesso Scappa No Cosa sta succedendo? Porca troia In acqua No In acqua no 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 E cosa cazzo fra E che li faccio? Cioè Non so che fargli a questo Andiamo a prendere le anime Ah aspetta 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 Ok Eh Stai bene con Cosa della forza Io qua Ah me lo risputa Allora Che devo aver capito Più o meno Quello che devo fare Ok Per di qua Per di qua Per di qua Ok Dai 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 Ah Ti è piaciuto la merda Schifoso Bella la mina eh È bella la mina Se mi muorono uccite Ah non ci arrivi Schifoso Te Merda Te Dai Dai sono qua Dai Perfetto Così dai Guarda Già di qua Già di qua Già di qua Già di qua Tutta tua No No Prendi questa Prendi Prendi Bella Bello la mia Buono Arrivo Brutto pezzo di merda Arrivo Eccomi E uno Non devo fare niente Mi sa eh Oh Ho visto tutta la mappa Che brutto Perché devo fare Devo fare qualcosa Uh Nell'occhio Sì Così Perché ti picchi da solo Ho vinto Ma Tipo A merda Ciao Oddio Che bello Signore delle cavità Stronzo Stronzo pure lui Ballo Strana Un altro dono Dove stiamo a formare il ghiaccio Non capisco le tue motivazioni Cosa spinge il signore delle cavità Ad armare uno dei quattro cavalieri Qual è il tuo scopo Non lo so Non è che dandoci doni Lui si indebolisce Ma Ma Misterioso Non proprio Mi aiuti E poi mi minacci Infatti non lo capisco Questa volta Ho avuto il mio A spuntare un'altra Senza essere cacciato via Pum La forma della stasi Penso che sia quello Per essere sulle pareti Yep X Per attivare la forma della stasi Prendete un attacco Con la forma della stasi Un po' come Normale che sia Resti incandescenti Ok Quindi Dobbiamo salire qua Vediamo un po' Devo tenere premuto Ma è fighissimo Tiri il mutato Vicino a un muro Per seguire Ma è una fighata Ma è una fighata Edda è Quello è un problema Vieni L'altro che fine ha fatto Tu è morto Insieme al mio Oggetto Tua madre Di qua Mi coprivi un oggetto Devo usare i spettri piccoli Non schifezzo Questo mi esplode Guarda Non mi esploso Questo mi esplode Non capisco Vabbè Torna qua Che fa uno di questi Non Non era un morto Con di te spoglie Dai Muori Ci muori Ormai Quando è vicino a questi Dove fa così Ho capito Che bello Quanti schifi siete voi Ok Per quello Io come faccio Ad andarci Tempesta Non credo Però Fatti Ci sta qua sotto Aspetta un po' Forza Satan Di qua è la strada giusta Qua che ci sta allora No No Non è che ci sta un altro mini boss Un boss segreto Può essere Magari troviamo degli umani Però non ci siamo passati Perché sento il rumore Di un oggetto Qui O è solo che stiamo andando A prendere un oggetto Giustamente Non esattamente Eh Già si Ammasso gli spettri Piccolo Dovremmo andare Laggiù Però Io concluderei Qua l'episodio Vi ringrazio tantissimo Per aver bisogno Nel caso in cui vi siete piaciuto Il video Diciamo un viaggio Iscrivetevi al canale Commentare Se vi va Qui la vostra Sole Tutto Alla prossima Ciao Mi sono messo a parlare Un po' come perlusca Ah Un po' come perlusca Un po' come perlusca